Terminata la prima fase della mobilità, è terminato il periodo di presentazione delle domande di mobilità per tutti i docenti titolari di scuola di ogni ordine e grado. Dunque non si può più inviare all'USP di riferimento, all'ufficio scolastico provinciale di riferimento, la domanda di mobilità. Adesso gli uffici scolastici provinciali acquisita questa domanda di mobilità si impegneranno nel periodo appena successivo al 21 aprile, dunque nella parte terminale del mese di aprile e nella parte iniziale del mese di maggio, a vagliare la documentazione di supporto alla domanda di mobilità presentata. Si intende l'allegato D di anzianità del servizio, l'allegato F per la continuità del servizio, si intende le dichiarazioni personali per le esigenze di famiglia e per i titoli culturali e, molto importante, vaglieranno anche la documentazione riferita alla richiesta delle precedenze per la mobilità. Nonché andranno a vagliare anche le preferenze espresse e invieranno nella posta elettronica del docente, se si intende la posta elettronica di riferimento alle istanze online, quella dichiarata e validata sulle istanze online, invieranno l'atto di notifica per la convalida del punteggio. Questa è una parte fondamentale della domanda di mobilità, cioè il docente deve fare attenzione perché troverà sia nella casella di posta elettronica che ha dichiarato nelle istanze online, ma anche nell'archivio delle istanze online stesse, l'atto di notifica della convalida del punteggio. Qualora il docente dovesse trovare una discordanza tra il calcolo del punteggio, della domanda di mobilità che ha inviato, con quello della convalida ha dieci giorni di tempo per esporre il reclamo, cioè può esporre il reclamo avverso il punteggio di convalida. In questa fase ci saranno anche entro il 6 di maggio la pubblicazione delle gradatori interni di istituto e di conseguenza immediata ci sarà anche l'individuazione eventuale dei docenti perdenti posto. Costoro dovranno presentare domanda cartacea nei 5 giorni successivi all'atto di notifica della perdita del posto. Queste in linea di massima sono le fasi successive alla mobilità, questa prima fase che si è chiusa con le domande. Entro il 5 di giugno ci sarà il termine di scadenza della chiusura del Sidi rispetto sia agli organici dell'autonomia sia alla richiesta di ricevere le domande per sovrannumerari e per la convalida definitiva dei reclami vagliati. La fase ancora successiva non sarà altro che l'elaborazione del movimento e poi ci sarà il 26 di giugno, salvo proroghe, la definitiva fase finale della mobilità, cioè gli esiti della mobilità stessa di ogni ordine e grado. continuate a seguirci, vi informeremo su questo tema che è molto importante e sta a cuore a molte migliaia di docenti seguiteci sul nostro canale YouTube e seguiteci sul nostro sito www.tecnica-la-scuola.it Arrivederci